Questo video riguarda i migliori tre sega circolare. Il vincitore della qualità è il Bosch GKS 190. Con il suo motore da 1400 W e una profondità di taglio di 70 mm, è l'utensile più versatile della sua categoria. Grazie all'elevata capacità di taglio, al miglior rapporto potenza-peso e ad una elevata visibilità del piano di lavoro, è ideale per professionisti quali carpentieri e artigiani del legno. La macchina risulta perfetta. Ad esempio, per tagliare travi per tetti, e tagliare a misura materiali in pannelli. Il convogliamento dei truccioli e la turboventola della GKS 190 Professional consentono agli artigiani una buona visuale sulla lama e sulla linea di taglio, in ogni condizione. La precisione degli angoli, anche nei tagli longitudinali, è garantita dalla possibilità di regolare l'angolo di lavoro. Questo efficiente utensile, grazie ai 1400 W di potenza erogata e all'elevato numero di giri, di 5500 giri al minuto, affronta profondità di taglio di 70 mm a 90 gradi e di 50 mm a 45 gradi. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è l'ichica sega circolare. Il potente motore in rame puro da 1500 W e l'elevata velocità 4700 PRM alta efficienza di taglio per un facile taglio di materiali diversi. Ti offriamo lame da 24 e 40 denti per il taglio di materiali diversi. La lama può essere facilmente sostituita con una chiave esagonale. La massima profondità di taglio a 90 gradi va da 0 a 65 mm e la capacità di smussatura a 45 gradi, da 0 a 45 mm design della lama laterale sinistra per alta visibilità della linea di taglio. La sega circolare guidata dal laser con il righello rende il taglio più dritto, preciso e professionale. Guide parallele per guidare e controllare la larghezza di taglio. È necessario rimuovere il coperchio del raggio laser e inserire le due batterie per il funzionamento della guida laser. L'interruttore di sicurezza rende il lavoro più sicuro. Il coperchio superiore interamente in alluminio previene gli incidenti e garantisce sicurezza e stabilità. Il vincitore del premio è il Tecpo Sega Circolare. Solo 2,98 kg, molto conveniente per trasportare in luoghi di lavoro diversi. Il potente motore in rame puro da 1200 W con 0,5800 RPM è più economico e adatto alle famiglie, il che significa risparmio energetico per i proprietari di case. La sega circolare può impostare la profondità della guida semplicemente e tagliare la profondità esatta di cui hai bisogno. È dotato di una piastra di pressione della lama antiscivolo e di un indicatore a vite sulla parte anteriore. I non professionisti possono facilmente cambiare la lama. La maniglia antiscivolo è progettata ergonomica per ridurre le vibrazioni durante il lavoro e aumentare il comfort dell'esperienza. Viene con la lama da 185 mm con 24 denti con punta in carburo, caratteristiche ad alta efficienza e minore usura, per un taglio uniforme. La lama è consigliata per tagliare i legni. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.